A Piazza Mazzini si può costruire il Consiglio di Stato a posto fine ad una querella giudiziaria che riguarda il parcheggio a raso nello spazio antistante Piazza della Concordia. Ora il Comune potrà studiare i progetti per cambiare volto ad una delle zone simbolo della città. Ne è convinto l'assessore Mimmo De Maio, intervenuto ai nostri microfoni. Il Consiglio di Stato ha rassegnato un proprio dispositivo in merito al ricorso che c'era stato sui programmi previsti all'interno del piano di una variante fatta al piano regolatore per quanto riguarda Piazza Mazzini. Ora ci siamo nella fase nella quale faremo la riflessione, vorrei ricordare che ci troviamo anche nel momento in cui stiamo rivisitando, riverificando il piano, stiamo a decennio dell'introduzione del piano e anche quest'area sarà oggetto di nostra riflessione per capire quali possono essere le potenzialità, che cosa concretamente intendiamo realizzare in quella zona. Perché anche lo stesso Consiglio di Stato mi sembra abbia richiamato l'utilizzo meramente di un'area di parcheggio a raso, che non credo che sia in realtà nel centro della città una soluzione auspicabile avere una distesa di lamiere nel cuore della città, ma prevedere un intervento di riqualificazione e di risistemazione in tutta la zona. C'è già un'idea in tal senso per la riqualificazione? Ci sono delle proposte fondamentalmente finalizzate ad avere un sistema di parcheggi interrati e non solo, un colpo in elevazione per garantire anche una riqualificazione delle funzioni complessivamente in quella zona.